Dopo mesi di vessazioni, maltrattamenti e angherie, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri e denunciare il figlio. È accaduto a Cadoneghe, alla locale stazione. In queste settimane si è presentata la donna, che da tempo subiva violenze e minacce continue dal figlio, 26enne. Le testimonianze di altri familiari e i riscontri dei diversi interventi di soccorso eseguiti presso l'abitazione della famiglia, hanno portato il GIP a emettere un ordine di carcerazione. Rintracciato, il giovane è stato arrestato e portato in carcere a Padova.